Misure decisamente meno stringenti, più libertà per chi pratica gli sport o frequenta circoli o associazioni sportive. È quanto previsto dalla circolare dell'assessorato regionale della salute che disciplina l'ordinanza dello scorso 2 giugno del presidente della regione siciliana Nello Musumeci in cui di fatto si prosegue il graduale percorso di ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown a causa del coronavirus. Il documento che richiama i gestori responsabili al mantenimento di un protocollo sanitario all'interno delle strutture e ricorda l'avvio della stagione balneare per oggi chiarisce anche che i punti mare presenti nei circoli siciliani saranno fruibili dagli iscritti, dai loro familiari ma anche dai conviventi. Nei circoli sportivi tuttavia potranno avere accesso anche gli ospiti iscritti a corsi di addestramento per sport individuali che dovranno essere identificati in appositi registri per favorire l'eventuale rintracciamento e dovranno produrre un'autocertificazione con lo stato di buona salute, l'assenza di sintomi covid-19 e di non essere sottoposti a quarantena. Come previsto dalle circolari precedenti le attività sportive e ricreative continueranno ad essere disciplinate da un regolamento interno che prevede adeguate misure di sanificazione, l'utilizzo di termoscanner e saturimetro, le necessarie forme di contingentamento dell'ingresso dell'utenza privilegiando l'accesso alle varie aree, piscine, palestre, punti mare eccetera tramite prenotazione. Il documento infine chiarisce che sono consentite la pesca turistica e il noleggio di imbarcazioni sempre nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. L'assessorato alla salute anche nella circolare raccomanda di seguire le norme per minimizzare il contagio da coronavirus.